Una vera e propria bomba è stata sganciata su Temptation Island. Nelle ultime ore ad essere protagonista dei rumor è stata la coppia di concorrenti, composta da Alfred e Anna. Infatti, è stato spoilerato il finale, visto che sarebbe chiarissimo ciò che succederà nelle prossime puntate. A svelare tutto è stato Alessandro Rosica, che su Instagram ha ufficializzato il colpo di scena. Non ha dubbi l'investigatore social, parlando infatti dei due protagonisti di Temptation Island, ha rivelato come è andata a finire tra Alfred e Anna. Ed è stata tirata in ballo anche una terza persona. Bisognerà attendere i prossimi appuntamenti del reality show per assistere agli eventi, ma intanto il pubblico è scioccato per il possibile epilogo. Veramente pazzesco ciò che è venuto fuori su Temptation Island e sui due fidanzati Alfred e Anna. Possiamo subito dirvi che non avrebbero proseguito la relazione amorosa una volta terminato il programma. Ma c'è molto di più, infatti lui avrebbe preso una decisione importante e clamorosa, che ha lasciato senza parole tutti i telespettatori. Alessandro Rosica ha scritto sui social, Alfred e Sofia sono usciti insieme da Temptation Island e sono felicissimi e super affiatati. Tradita dunque la sua fidanzata Anna. Scoop esclusivo spoiler Alessandro Rosica. La tentatrice della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia avrebbe fatto perdere la testa al concorrente, che ha iniziato una storia con lei lasciando definitivamente Anna. In passato Anna non è mai stata in grado di lasciare per sempre Alfred, nonostante un tradimento e messaggi inopportuni scoperti dalla ragazza. Ma ora il rapporto tra i due sarebbe arrivato al capolinea per volontà del giovane, che avrebbe scelto Sofia.